Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza del Presidente della Regione che da fine ottobre ha disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell'infanzia con un intervento più restrittivo rispetto a quello previsto dall'ultimo DPCM. Lo rende noto il Codacons di Lecce che con un gruppo di genitori aveva presentato ricorso. La Regione Puglia intanto è pronta ad emanare sulle scuole la didattica in presenza a una nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 9 novembre. La nuova ordinanza regionale dovrebbe ricalcare quella attualmente in vigore firmata lo scorso 28 ottobre. Le uniche novità potrebbero riguardare le scuole primarie per le quali l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco annunciò la possibilità di una riapertura nel caso l'andamento epidemiologico della pandemia di coronavirus lo avesse permesso.